Musica Ehm, benvenuti a tutti ragazzi, io sono Bondax, benvenuti in questo nuovo video Post partito di Brescia Comod 0-1, ragazzi, perdiamo ancora in casa Speriamo ancora in generale Non giochiamo bene l'altra partita Brescia ha fatto, giocato malissimo Due tiri in porta contro i sette del Como Come ragazzi, che ha dominato dal primo all'ultimo minuto della partita Brescia pochissime volte è pericoloso Ehm, diciamo che neanche i nuovi acquisti oggi hanno brillato E siamo ancora più, eh, nei guai Perché adesso la zona play out è a uno o due punti Non ho guardato bene la classifica La zona play out, ragazzi, è a uno o due punti E la zona di successione è a quattro Ma voglia ragazzi, bruttissima partita Come che parte subito forte Ehm, subito dopo due minuti c'è un'occasione per la squadra comasca Cutrone al diciannovesimo, ventesimo minuto Porta avanti il Como, ma c'è un fuorigioco Gol annullato Brescia che la sua migliore occasione ce la butta intorno al trentatresimo minuto Con Pablo Rodriguez Che però si è divorato un gol clamoroso Colpendo un difensore della squadra comasca Ehm, poi dopo con l'espulsione di Mangraviti Per un fallo d'ultimo uomo Espulsione giustissima, ragazzi Abbiamo perso le staffe Non siamo andati più avanti Ci siamo chiusi in difesa E il Como Con Daniele Baselli Intorno al sessantesimo minuto Ha trovato il gol del 1-0 Adesso Io non so di chi sia il problema Se dell'allenatore della squadra o della società Però rimane il fatto che se non si danno una svegliata Se non si diamo una svegliata La C è dietro l'angolo E non penso che nessuno voglia andare in C Penso Perché se no O si lavora duro O si lavora duro Perché non è possibile Essere a Tre punti Tre, quattro punti Dai play Dalla zona di successione Quando A inizio del campionato Si era in testa Io non so cosa è successo ai ragazzi Dopo Bari Sono diventati Irriconoscibili Cambiato tutto Prima di tutto ci serve Un nuovo portiere Perché neanche Andrei Naci Mi fa impazzire Due centrali Terzini al posto di Karacic E Sì Comunque un terzini al posto di Karacic Centro campo Viviani lo manderei via Perché non sta convincendo per niente Attacco Sì C'è Paolo Rodriguez Però servirebbe un'altra punta Anche per sostituire Iè Bianchi Oggi è Fatta una prestazione Molto sbiadita Ma come la scuola in questo periodo Adesso arriva la prossima partita E contro il Perugia In Umbria Perugia che è ultimo Ultimo penultimo Mi ricordo Comunque Nelle ultime tre ragazzi Bisogna Portarsi a casa il risultato Ma non perché Non perché Non dico che il Perugia sia scarso Dico che bisogna portare a casa il risultato Per spararci le chiappe Perché se continuiamo così La C Detto l'angolo Ma i play out soprattutto Che i play out sono una via Secondaria per andare in C Ma puoi sempre finirci E Non vorrei neanche dare troppo la colpa alla società Secondo me Sì Non è il massimo come società Però Neanche loro la colpa È un misto Tra È un misto Cioè non saprei neanche a chi dare la colpa onestamente Di questo Di questo tracollo Avuto dal Dall'1 ottobre La trasferta di Bari In poi Vabbè ragazzi Vi saluto Bella